è veramente un risultato storico e dobbiamo impegnarci ogni giorno per i prossimi cinque anni perché sarà dura, lo sappiamo come è Roma, lo sappiamo dai, un applauso, dai, un pochino sentimenti contrastanti da un lato io devo dire che sono vicino a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo sono vicino alle persone che sono un po' disorientate sono vicina, immaginiamo tutte le persone che stanno perdendo un lavoro, lo hanno perso immaginiamo anche le persone, sembra brutto dirlo, ma quelli che stavano facendo un lavoro in nero e che improvvisamente sono trovati senza lavoro per questo grandissimo evento, ma nel frattempo Roma risplende ed è una bellissima vetrina anche l'open sostanzialmente dal green si può ammirare guardando bene anche la cupola del Colosseo quindi io credo uno scenario davvero eccezionale, straordinario e per la nostra città chiaramente un ruolo davvero importante Quello verde che cosa devo fare? Lanza Fatelo voi insomma, organizzatevi voi Per prima cosa vorrei ringraziare tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia tutte le persone, migliaia e migliaia di persone che mi hanno appoggiato dopo cinque anni di attacchi violentissimi e spesso purtroppo anche personali ai quali in pochi avrebbero resistito ho ottenuto poco meno di quanto hanno totalizzato le corazzate del centrodestra e del centrosinistra per essere molto molto chiari non darò indicazioni di voto il voto è libero i voti non sono pacchetti da spostare né i cittadini sono mandri e da portare al pascolo non sono pacchetti da spostare